musica Ok, eravamo rimasti al settimo livello E ora? Ci fa così E ora sembra abbastanza facile questa parte Si è facile c'è quella fessura lì nel muro no? Si ma devi fare tre rimbalzi non uno solo tre rimbalzi bisogna fare no basta uno solo Come fai a fare tre rimbalzi scusa cazzo quasi Ah ma così non la scada un pro player cazzo raga l'ha fatta al primo colpo ah ma così vabbè ma bastava dirlo scusa sono Me in catarine normale So saltare Fai bodyblock Non ci arrivai comunque non mi colpare del tuo bodyblock ok e io che speravo fosse automatica sta parte vero è automatica Dove va? Ma non lo so ma dove vuole ogni volta sto gioco ma devi prenderlo in centro non Uddio ce la fa udio ce la fa Spassati Giu 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 Sai cosa fai scad? Dimmi pure Mamma che fa gli sconti Ah si per ieri feste Grandi feste Hai fatto la clip fa ridere sì sì adesso che registriamo facci andare avanti Dai già a me viene una volta su mille se per i bloccate dai guarda ti faccio vedere come si fa non mi interessa Faccio vedere come si fa devo andare un po più profondo esterni stretto Non è vero E poi c'è il Va bene ci sta Una 1 para al centro scad sì ma il 2 a 1 non mi piace per favore Spostiamoci Andrea c'è un checkpoint io no no ma quindi scade di riparsela già sì ma l'ho rifatto due volte su due il problema Io non posso tornare dentro perché ci andrà in mezzo Oh che disdetta io non capisco esattamente come fai espona a non farcela Fai spostare con l'altro faccia di merda per favore così andiamo avanti Per dio Salta in centro al buttafuori Oddio Basta salta la fin dietro Andrea posso passare io sì 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 lo lancio sto joystick beh se poi uscivo lì da solo non è colpa mia Dio dai brutto il cazzo guarda che il cazzo 4 a 1 può andare bene o c'è bisogno ancora di Allo due volte è due su due attenzione attenzione buono buono lancio buono l'interpretazione va lungo Andiamo avanti grazie che c'è qui xd vi siete sbagliati No, 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 porco di... No, oh, oh, raga Eh? Io incredibilmente l'ho fatta giusta Come si faceva? Ciao Scar, mi vedi? Eh sì Sono finito qui per sbaglio e mi sono salvato Io non riesco a capire come dopo il terzo rimbalzo Possa riuscire a entrare senza incepparmi No, no, no La cosa più facile ho sbagliato No, ma è in quel buco come ci si entra e quando salti quando c'è il quando vai della dal muro ha subito alla sinistra c'è una fessura dove devi entrare Easy e c'è altro più avanti no ragazzo la mette di forte andati qua Cazzo sei serie lol nope Dopo aver completato la seconda stanza quei salti a seconda girati sulla rampa e vai di lì andate andate sulla sinistra qua No! Scud! Oh dimmi tutto Hai fatto body block? No io non so niente Portami le prove Eh sì Scud guarda qua dietro Madonna, madonna, p***na, madonna Scud ma chi è che non è ancora arrivato? Non lo so, forse è quello che non faceva al parkour prima Però mi sfugge il nome No ma puttana Vabbè allora siamo in tre Allora spawn è qua Io sono qui Oh camper Manca camper Manca camper Evento straordinario Manca camper Perché indietro non è parkour Solo per oggi No, sempre Come le offerte Della Ammin flex Salta e vai tutto a sinistra No sono scivolato Ma non devi salire sul mordino Basta che ti butti tutto a sinistra Ce la fai Che fa dire a sinistra? Il butta fuori non lo devi prendere tutto a lato Salti per bene e tiri il mouse tutto a sinistra Il mouse? Il tuo device di movimento Ma io devo fare un salto E arrivare nel vostro buco? Si Col butta fuori ci arrivi direttamente Esatto Oh ce l'ha fatta raga ce l'abbiamo fatta Ok bastava dirlo Oh fermo 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 Passa sopra 5-6 volte qua Che ti dà sicurezza Raga quanti livelli sono? Non lo so Go next È un labirinto questo Io non c'ho volta di fare il labirinto Tutto a destra Sempre a destra Sempre a destra Sempre a destra Questo quel cazzo è? Sempre a destra 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 Tutto a destra No perché? Perché io ero sotto Adesso sono sopra E sono tornato sotto a caso Oh Sapete che l'ho trovato? Una moneta Già Un bel cazzo nel culo Allora da dove spawni? Cammina dritto Fai le scale Due volte a destra Poi vai dritto Poi salta usando la barriera invisibile nell'angolo Eh chi se lo ricorda tutto Allora Ci faccio una foto aspetta Esatto Ci ho fatto col telefono anch'io E la seguiamo mano a mano Perfetto Allora From the spawn Sempre dritto Cammina dritto Sì Dove mi ha fatto spawn Aiuto Passa le scale No siamo al contrario qui Camper Due volte a destra E poi dritto Vai facciamo Guardi qua Due volte a destra Uno Due E poi dritto Eh qui c'è una cosa invisibile Bastardi Beh non proprio invisibile Da qui si vede Ah io non la vedevo Mega easy Nove Rapido Che cazzo è sta roba Non sprecare Non fa Aspetta Ammela 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 Vabbè trova Trova la partita Va bene Ok possiamo Non usare i fumogeni Se no Non so più dove cazzo sto andando Stiamo registrando da un'ora e sei minuti Riusciamo Mi ha usato solo uno di fumogeno Quanto dura Non vedo niente Prendine uno per sorta Ti serviranno I quattro consumabili Una volta che sarai in cima Ok Dove dobbiamo arrivare? Dove dobbiamo salire su da qualche parte E' la parte più bassa Questo qua Questo qua Questo qua non è Opla Buttati all'indietro e quando sei quasi arrivato ti spari Questo è un bel salto Sì ma io ho solo due colpi adesso Scott quanti colpi hai? Quattro È impossibile Camper raccogli i munizioni per tutti Come arrivo là? Eh salti Ti giri all'indietro Però spari un po' diagonale anche Schiena verso di noi Salti No Troppo Vabbè è andato lungo Sì una tecnica un po' tutta tua Ma Devo arrivare lì in fondo? Eh già Opla Ho detto fatto Devo arrivare là Basta che salto No Ce l'hai fatta camper tu da lì? Yes Arr Sono un vero bucaniere No spawn Sto diventando matto Pigli attista fumogena Dai Oh oddio Non voglio cascare Non voglio cascare Ma Porco Chi è che tira le Oh no Raghi Sapete che ho trovato La moneta È la moneta di Fortunut Perfetto C'è una scritta Fai la scritta e mandagela su whatsapp Sì LOL You didn't need all five hits Not spawn Then flint lock up Non ho capito niente Torna indietro nel labirinto Vai sempre a destra E poi guarda in su Skad Per una volta che camper fa le cose giuste Per primo E sono inutili XD XD Che dobbiamo fare Tutto a destra Han detto qua Quindi destra Destra Io sto con dentro Alla sinistra Vabbè Destra Destra Guarda su Ah con la pistola Ci spariamo adesso Oh no Ho perso tutto quanto Vabbè era normale Oddio il cannone Raga Allora Se il cannone Finisce giù La detran Finisce Quindi stiamo attenti Sei sicuro che la detran Finisce se finisce giù il cannone Perché il cannone Finisce giù nelle trappole Eh già Esplode E sono abbastanza sicuro Che non sia stato Abbastanza sveglio Da Ma forse C'è una piattaforma di respawn Quindi Non lo so C'era anche l'altra volta Sparati molto dritto Quasi basso Ma perché non mi fa muovere Noi cazzo Si è sparato Eh mi hai sparato tu Sposto a mia sinistra No Che trollerino Spawn Porco Sto ridendo che un sacco Oddio Uno a uno Pezzo di merda Via Ve lo meritavo Ve lo meritavo Volete sapere una cosa bella È che Il prossimo Un altro cannone Eh l'ho visto Ne andrei ancora al primo E non ce la farà Andrea Ti spiego Devi mirare bassissimo Quasi Quasi al look Spawn Lo so fare Meglio di te Il lavoro coi cannoni Ok Si si Intanto Il discorso È È È che Uno ha fatto il bodyblock Assolutamente negativo Devi mirare più basso L'ha visto che hai fatto Blabla Blabla Eh Blabla Andrea comunque seriamente Mira allo stipite basso Ecco Lo sto facendo io Lo so fare meglio di te Vedi Lo miro Infatti mi ci schianto sopra E mi cado Io ho mirato un pixel Sopra lo stipite basso È un pixel È un pixel Prima mira È un pixel Perché Lo so fare meglio di te Lo so fare meglio di te Guarda che Basta Mira Mira la mia testa Oh cazzo Oh me la mano Vedi Bravo No stipiti e pixel Dio Oddio Posso andare Posso andare Fatto No Oddio Amici Moneta Dov'è il cannone Nel primo No cosa Vai super quella pettaforma Che c'ha quadrato Scala L'hai spostato Lo vediamo il cannone Faccia di cazzo Dai non lo vedevate Volevo finire la detran prima Volevi finirla prima Il panichino però Andrea ce l'aveva Figlio della merda Ci sono arrivato Altro cannone C'è il checkpoint No Semplicemente un altro cannone Mamma mia Che tiro preciso Beh c'è il checkpoint Non c'è assolutamente un'altra moneta di fortnut No no È un checkpoint Io vi aspetto C'è la muleta o il checkpoint? Non ho capito Boh Vieni a scoprirlo Dura di recra Che voglio suicidarmi Fermi Leggi quello che c'è sul gruppo Leggete quello che c'è scritto sul gruppo Sembriamo gli amichetti di 12 anni Che si fanno le detran Nope Use the first cannon And shoot yourself in the bag Vaffaculo Dove? Devo spararci nelle trappole Col primo cannone Sparami a sinistra A sinistra? Un attimo che leggo Dai Spawn Spawn È tutto forato Il problema è che tu hai beccato l'asta in alto Vedi È tutto forato Bravo camper Sei arrivato per la seconda volta in fondo al parkour Che non serve a un cazzo Infatti lo sapevo Cioè per forza Era arrivato lui Quindi non andava bene come strada Cioè era Andrea dove stai andando? Sto girando col cannone È finito giù Eh porca Andrea hai capito dove devi mirare? No Su questa trappola qua Piuttosto a sinistra e in basso No quella più alta Ma non la trappola in basso eh Come no? No quella alta La trappola alta nell'angolo in basso a sinistra Ah ok Si è buttato nell'alto Ok ah era così facile Eh sai com'è? Mi davo la trappola in basso Io mi davo proprio due Undicesimo livello Olè Ma non finisce più questa mappa Ma non erano dieci Io avevo letto a nove Le istruzioni dicevano dieci Io avevo detto Che per finire questa mappa Bisogna spegnere la console Proviamo? Prova prova Magari funziona Stacca la spina del quartiere Finiamolo ormai Cioè andiamo via avanti possibile Ma quanto vuoi registrare? Non la finiremo mai Vabbè La seconda parte finisce qua Ci sarà un terzo video ok? Si si Do be continued Ok Io ho altre tre ore e mezza per registrare Proprio non c'è un cazzo da fare nella vita Ah ah